Fu allora che realizzai quanto fosse diverso. Quanto fosse diverso questo mondo dal mio. Sono passati ormai dieci anni da quando Lord Braska divenne grande invocatore e finalmente abbiamo ricevuto la sua statua per il nostro tempio. Che cosa significa grande invocatore? E' questo chi è? Non lo sa. Scusate sono stato attaccato dalle tossine di Sim. Gli invocatori praticano una sacra forma d'arte, votata a proteggere il popolo di Yevon. Solo pochi eletti possono aspirare a diventare invocatori e poter richiamare delle potenti entità nominate Eoni. Essi ascoltano le nostre preghiere e vengono per aiutarci. Gli Eoni rappresentano la benedizione di Yevon. In pratica dovremmo rispettare questa specie di santone o qualcosa del genere. Prega diligentemente e il tuo corpo smaltirà le tossine. Scusami bello, il pranzo non era ancora pronto. Schiaccia un pisolino, sembri sfinito. Potresti andare a controllare le loro condizioni. Non possiamo intrometterci nella regola. Ma... è quasi... Ma... è quasi... È quasi... passato un giorno. Forse potreste aiutarci a cercarlo. Tranquilla, stiamo già provvedendo. Grazie. Chi se ne frega se torna o no. Ma potrebbe morire. Lo spero. Tu... lo odi così tanto. Se papà muore, non avrai mai l'occasione di dirgli in faccia quanto lo odi. Quacka. Quacka. Qualcosa che non va. L'invocatore non è ancora tornato dalla sua prova. Eh? Beh... In realtà ha un apprendista invocatore. Che cosa? C'è una stanza lì dentro, chiamata il Chiostro delle Prove, dove l'invocatore apprendista va a pregare. Se le sue preghiere vengono accolte, l'apprendista diventa a tutti gli effetti un invocatore, ricordi? Quindi qualcuno è dentro qualcosa e non è ancora uscito. Esatto. Ed è già passato un giorno ormai. Ma... non è che è un posto particolarmente pericoloso, vero? A volte sì. E allora perché non vai ad aiutarlo? Ci sono già dei guardiani. E poi non è permesso. È proibito entrare lì dentro, intesi? Ma se gli succedesse qualcosa, se l'invocatore... dovesse morire! Non andare! Bisogna obbedire ai nostri precetti. Sì! Me ne frego! Forse, dopo tutto, non fu una buona idea. Ehi! Che ti prende? Ehi! Che ti prende? Tranquillo, è tutto ok. Solo invocatori, apprendisti invocatori e i loro guardiani possono entrare qui. È la tradizione ed è molto importante. E invece perché a te non hanno fermato? Perché? Perché io sono un guardiano. Sì, ma cos'è un guardiano? Gli invocatori partono per un pellegrinaggio per pregare nei templi di Spira. I guardiani li proteggono. E io sono qui per questo. Ce ne sono due lì dentro, una che si arrabbia facilmente e uno che non si capisce a cosa pensa. Beh, visto che siamo arrivati fin qui... Andiamo fino in fondo! Che cosa stai facendo qui? Non ci ritieni in grado di gestire la situazione? No, cioè... è solo che... voglio dire... Visto, te l'avevo detto, che si arrabbia facilmente. Eh, l'invocatore sta bene? No, perché... E tu chi sei? Non c'è un lungo. Non c'è... Non c'è un ruolo. Non c'è un ruolo. C'è l'ho fatta. Io sono diventata un'invocatrice. Cavoli, non me l'aspettavo. E io che pensavo che gli invocatori fossero tutti dei vecchi barbuti. Ehi, fratello, da questa parte. Venite qui per cominciare. Devi vederlo assolutamente. Che cosi? Non vedo niente. Maleducati. Sì, pronti. Va bene. Sì, pronti. Sì. Mai visto nulla del genere in vita mia. Fu un po' spaventoso. Ma rimasi. Quella creatura sprigionava una strana sensazione di calma e gentilezza. Quel coso è magnissimo. Guarda come vola. Non vedo niente. Non vedo niente. Ma rimasi. Ma rimasi. Non vedo niente. Non vedo niente. Ehi, fratello, da. Non vedo niente. Non vedo niente. Grazie per la visione!